Mossa evidentemente conseguente al ritiro dall'Afghanistan e molto concentrata sugli equilibri del Pacifico. Gli Stati Uniti serrano le file in un'alleanza di chiaro segno anticinese. USA, Gran Bretagna e Australia hanno dichiarato che stabiliranno una partnership di sicurezza per l'Indo-Pacifico che comporterà l'aiuto a Canberra per l'acquisizione di sottomarini a propulsione nucleare man mano che l'influenza di Pechino nella regione cresce, ad annunciarlo lo stesso leader americano Joe Biden. Oggi stiamo compiendo un altro passo storico per approfondire e formalizzare la cooperazione tra tutte e tre le nostre nazioni perché tutti riconosciamo l'imperativo di garantire la pace e la stabilità nell'Indo-Pacifico a lungo termine. Dobbiamo essere in grado di valutare sia l'attuale contesto strategico nella regione sia come potrebbe evolversi. La partnership per la sicurezza Indo-Pacifica è stata soprannominata AUKUS. Il premier britannico Boris Johnson ha aggiunto che i tre paesi saranno ancora più uniti mentre salta l'accordo australiano con la Francia per la costruzione di 12 dei più grandi sottomarini convenzionali del mondo. La flotta di sottomarini a propulsione nucleare usati dall'alleanza A3 sarà di tecnologia statunitense. Grazie. Grazie.